Una vera rivoluzione nella giunta messinese al comune di Gela, il sindaco rompe con tre assessori e presenta subito alla stampa i nuovi nomi. Licenziati dunque Pietro Lorefice, Chetti Damante e Nuccio Di Paola. Sentiamo dal sindaco di Gela che cosa lo ha determinato ad assumere queste importanti decisioni. Matura per dare le risposte alla città, per poter trovare quell'armonia all'interno della giunta che serve per raggiungere gli obiettivi. In questi mesi di rodaggio ci siamo resi conto che vi era una separazione netta, non c'è stata la volontà di fondersi in un unico corpo che in modo armonioso potesse camminare per dare quelle risposte che la città ha bisogno. Siccome la città viene prima di ogni cosa, prima di ogni indicazione, davanti a ogni tipo di amicizia, è stato doveroso da parte di questa amministrazione provvedere a sostituire quella parte che non si è adeguata. Questi i nomi dei nuovi innesti in giunta. Francesca Alicia Abela avrà delega ai servizi sociali e all'istruzione. Flavio Rocco Di Francesco si occuperà di lavori pubblici e decoro urbano. Angelo Eugenio Rosario Catania guiderà l'assessorato competente al controllo del territorio sport ed eventi. Sono tre tecnici che sono in grado sicuramente di poter gestire i vari settori in modo molto più programmatico e quindi per finalmente far partire alcuni settori importanti come i servizi sociali, come lo sport, come la sicurezza del territorio e come lavori pubblici che sicuramente qualche problema in questi giorni ci sono stati. La nostra giunta è una giunta per la città e quindi quando come obiettivo principale c'è la trasparenza, c'è l'onestà verso la città per poter risolvere i problemi in modo serio, questa sicuramente è una giunta pentastellata. A prescindere da quanto tempo una persona è più o meno militante perché non è tanto il fatto di dire di appartenere a un gruppo o un altro ma è importante le azioni che si fanno. Sono le azioni che ci rendono e ci danno quella targa che qualcuno in modo improprio invece ne fa uso e abuso.